5, 4, 3, 2, 1, via! 30, 3 sinistra lunga stringe, in 3 destra lunga apre, 80 4 sinistra lunga stringe, 50 4 destra lunga apre su crinale, 100 4 destra lunga apre su crinale, 80 2 non piste sinistra stringe apre lunga, stringe 2 lunga apre, in 3 destra lunga apre, tieni la sinistra su 50 4 destra lunga stringe 3 in 4 sinistra lunga apre, 50 3 sinistra lunga stringe attraverso tunnel 50, 3 destra lunga apre e 6 destra su crinale e tieni la sinistra su 30 3 destra lunga stringe e tornante non pisto aperto a sinistra apre, 30 tornante non pisto destra apre, 6 lunga 30, 4 sinistra stringe, 30 4 destra stringe in 3 sinistra lunga, in 3 destra, 30 4 sinistra, in 1 destra lunga apre, in 3 sinistra molto lunga, 60 4 destra lunga apre su crinale, 30 4 destra, in 3 sinistra molto lunga stringe 2 lunga in 4 destra lunga, 30 4 sinistra in 4 destra lunga tieni la sinistra su 50 attenzione, 6 destra, 5 sinistra molto lunga in 5 destra lunga rallenta, tieni la destra su 60 tornante aperto non pisto sinistra tieni il centro su 80 6 sinistra lunga apre su crinale tieni la sinistra su 150 tornante aperto non pisto destra in 6 sinistra lunga 50 6 destra su crinale salto 50 3 destra stringe 3 sinistra tieni la destra su 50 su crinale 6 sinistra sotto guardo in 4 destra